Vince il Milan 3-1 al Celtic Park, un po' una palla di partita ragazzi, perché il Milan l'ha chiusa praticamente subito, non c'è mai stata storia E poi ecco, c'è da dire una cosa, che questo è il classico match che con il pubblico, secondo me, un pochino sarebbe cambiato Perché noi laziali sappiamo cosa vuol dire giocare al Celtic Park e in generale lo sappiamo Uno stadio in cui il Celtic ha battuto anche il Barcellona qualche anno fa È uno stadio che spinge molto i suoi giocatori e quindi incide sicuramente sulla mancata reazione Perché sul 2-0 mi aspettavo un Celtic più arrembante, invece ha segnato l'1-2 Ma più, secondo me, per demeriti del Milan che si è abbassato troppo E il Milan è già proiettato la partita di lunedì, mi pare, con la Roma Comunque con la Roma sarà una bella partita Secondo me il Milan si fermerà con la Roma Io vedo un pareggio Milan-Roma Un Milan che... quante? 20 partite che vince Perché già l'anno scorso, quest'anno, a luglio Le ha vinte, mi sembra, tutte o quasi No, con la Spal... no, vabbè, comunque le ha vinte quasi tutte In questa stagione anche, a parte quella con Rioave che ha pareggiato e ha vinto poi i rigori Però le sta vincendo tutte E poi voglio dire una cosa, magari anche un po' controcorrente Secondo me Ibra è più forte adesso che quando era al Milan dieci anni fa Perché è una cosa, Ibra, che è incredibile E poi corre anche, lo sottolineavano anche i telecronisti È quello, io me lo ricordo in Milan-Samp 0-0 A dicembre, quando era, quando è arrivato Gennaio, quando è arrivato Quest'anno Ed era un palo in una vigna Infatti io mi ricordo che feci il video Dissi, beh, sto Ibra però E invece adesso, ragazzi, ha fatto quella preparazione tutta È entrato in forma, ha trovato il ritmo partita di nuovo a grandi livelli La Serie A all'Europa League È un Ibra che è il leader tecnico della scuola Cioè, proprio, magari, sì, non segnerà più 30 gol come faceva Però è incredibile questo Ibra Cioè, veramente, palla lui, sei tranquillo Cioè, proprio mi dà questa sensazione Cioè, lui anche non correndo Perché corre anche Ma anche da fermo lui ti fa la differenza Che gli dai palla a lui Sai che o prende fallo, non gliela toglie E poi la smissa sempre bene C'è magari l'unico difetto che ha Ibra Che tante volte i suoi compagni sono in soggezione Perché sembra sempre che gli debbano dare il pallone a lui Quando magari ci sono soluzioni migliori È successo a Dias qualche volta Quella è una cosa da sottolineare, attenzione Però, a parte quello, Ibra è un valore aggiunto Oggi ha giocato, poi è uscito E il gol di Krunic Il primo gol che apre la partita Con la maglia del Milan di testa Da sottolineare che in quell'azione c'è Cassi Lego Che mette un bel cross e dribblando proprio l'Axalt No, ex Milan, non a caso Ma in quell'azione appunto C'erano tre giocatori del Milan in proiezione offensiva C'era Ibra che andava dentro Krunic e forse Dias Adesso non mi ricordo il terzo Quindi era un Milan comunque molto votato all'attacco Perché poi se si inseriscono tanti giocatori C'è più possibilità ovviamente di fare golle E già che Ibra occupa già due difensori Entra Krunic, gol di testa Che non è proprio il suo marchio di fabbrica Tra l'altro il Celtic fisicamente sono forti Quindi prendono gol di testa da Krunic Già questo mi ha fatto un po' capire Che il Celtic non era in grande serata stasera E poi arrivano dopo di un Dias Perché era schierato oggi Krunic, diciamo nel 4-2-3-1 Dietro la punta Dias a sinistra Castileco a destra E Dias Io ho capito che lì non è il suo ruolo esterno Lui è un trequartista Poi sulla destra fa ancora siccome più fatica Quindi si accentrava molto Diciamo che tatticamente non ha giocato una gran partita Però ha fatto un bel gol Lì un contropiede Che lo avvia casualmente Slaten Ibrahim E Teo Hernandez aspetta l'arrivo di Dias Anche lì non lo segue nessuno Poi ci sono i due difensori che Tra un po' si marcano a vicenda Invece di marcare Dias Dias si sposta la palla sul destro E incrocia Vabbè un gol Per un giocatore della sua tecnica Sicuramente facile Poi come detto Non c'è stata reazione Il gol di testa del Celtic E poi arriva il gol di Auge 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 come si chiama Su assi di Salemakers Primo gol Con la male del Milan Quindi questo è un giocatore interessante Si vede questo Auge E niente ragazzi Quindi Milan che inizia bene il suo torneo Il Lille a 24 a 1 Direi che comunque Lille e Milan Ma già in assi di partenza Sono forse quelle che hanno qualcosa in più delle altre E se la giocheranno loro Vediamo Ancora presto per dirlo Ma in teoria Siccome sono le più forti Loro due Poi sappiamo l'Europa League Spesso viene snobbata Quindi Poi si aprono tanti altri discorsi E c'è da dire Che Pioli Turnover turnover Ma non può fare a meno E infatti non l'ha fatto Anche stasera Di Frank e sì Perché in questo Milan Puoi togliere bene a Ser Che sì non puoi toglierlo Perché veramente È imprescindibile E tonali anche Bah Fa sempre un po' il compitino Ma aspetto di più Però Ci sarà tempo anche per lui Ragazzi Commentate con la vostra opinione Like al video Iscrivetevi Mi raccomando al canale Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti